Buongiorno, eccoci qui con un nuovo video. Oggi parliamo di zuccheri, carboidrati e fibre. Vediamo un po' come sono composti e quali sono le differenze tra queste tre sostanze. Lo scopriamo dopo la sigla. Benvenuti, benvenuti a tutti, benvenuti in un nuovo video. Io sono sempre Marco Franzoni, laureando in Biologia e oggi parliamo dei carboidrati. E allora cominciamo subito. I carboidrati, chiamati anche saccaridi, glucidi o zuccheri, svolgono importanti funzioni all'interno degli organismi. La funzione più importante dei carboidrati per tutti gli organismi e anche per l'uomo è fornire energia. La caratteristica comune a tutti i carboidrati è quella di essere composti da tre elementi principali che sono carbonio, ossigeno e idrogeno. Nello specifico i carboidrati sono delle catene di carboni, quindi ci sono tanti carboni legati tra di loro e a questi carboni a loro volta sono legati degli idrogeni e dei gruppi ossidilici OH. In realtà molto spesso le parole zucchero e carboidrato vengono usate come se fossero sinonimi, ma sbagliando perché si tratta di un errore. Capiamo meglio il motivo. I carboidrati possono essere suddivisi in tre classi principali. Una singola unità di carboidrato viene chiamata monosaccaride. Catene formate da due a venti monosaccaridi uniti tra loro prendono il nome di oligosaccaridi. Tra questi i più importanti sono i disaccaridi. I disaccaridi sono formate da due molecole di monosaccaridi legati tra loro. Chiamiamo invece polisaccaridi quei carboidrati composti da due anche fino a decine di migliaia di monosaccaridi, per cui sono catene molto molto lunghe. Partendo dai monosaccaridi, i più importanti sono composti da 5 o 6 atomi di carbonio, glucosio, fruttosio e galattosio. Questi sono i tre esosi, quindi i tre zuccheri composti da 6 unità di carbonio e sono molto importanti per quanto riguarda l'apporto di energia, quindi li troviamo indicati anche come zuccheri nelle etichette alimentari. Importanti invece perché costituiscono gli acidi nucleici sono i pentosi, cioè quei monosaccaridi composti da 5 atomi di carbonio. I due pentosi più importanti sono il ribosio, presente nell'RNA, uno dei due acidi nucleici, l'altro è il deossiribosio, presente nel DMA. Il deossiribosio si differenzia dal ribosio semplicemente per il fatto di avere una molecola in meno di ossigeno. E ne avevamo già parlato in un video precedente in cui siamo entrati nello specifico degli acidi nucleici e lo trovate alla fine di questo video oppure in descrizione. Caratteristica importante, importantissima dei monosaccaridi è che solitamente li troviamo in forma lineare, ma quando si trovano in acqua assumono una forma circolare, per cui si dice che i monosaccaridi si dispongono in forma ciclica e questo è veramente super importante. È un concetto chiave per capire il funzionamento proprio dei carboidrati, perché è proprio grazie a questa conformazione che si viene a creare il legame glicosidico che permette a due monosaccaridi di unirsi e formare disaccaridi, oligosaccaridi generici oppure polisaccaridi. E ora vediamo proprio i disaccaridi. Si tratta di carboidrati costituiti da due molecole di monosaccaride e adesso vediamo quali sono i più comuni, indicati anche questi come zuccheri nelle etichette alimentari. I più importanti disaccaridi quindi sono il saccarosio, che è il comune zucchero da cucina, è composto da glucosio e fruttosio. Abbiamo poi il maltosio composto da due molecole del monosaccaride glucosio e abbiamo poi il lattosio composto da una molecola di glucosio e una di galattosio. Gli intolleranti al lattosio non possiedono l'enzima lattasi che va proprio a dividere questa molecola in glucosio e galattosio, per cui non riuscendo a dividere questa molecola del lattosio si hanno dei problemi intestinali di vario tipo. Gli oligosaccaridi sono invece una categoria abbastanza snobbata per quanto riguarda la biochimica, per quanto riguarda i carboidrati, perché di fatto non sono importantissimi da un punto di vista né energetico né di riserva, come invece vedremo per i polisaccaridi. Spesso questa tipologia di carboidrati è legata a delle proteine e l'insieme di uno zucchero, quindi un glucide e una proteina, prende il nome di glicoproteina. Ne parleremo in un altro video, ma ora invece andiamo a concentrarci su quelli che sono i polisaccaridi. I polisaccaridi sono lunghe catene di monosaccaridi uniti tra loro che vanno dai 20 anche fino alle migliaia, ai milioni di monosaccaridi uniti tra loro. Strutturalmente questi polisaccaridi si dividono in omopolisaccaridi se sono costituiti dallo stesso monosaccaride ripetuto più volte, eteropolisaccaridi se sono costituiti da monosaccaridi diversi tra loro e un altro metodo di classificazione che riguarda sempre i polisaccaridi è che questi possono essere lineari oppure ramificati in base a come gli atomi di carbonio sono disposti tra loro e anche in base ai vari tipi di legame. Infatti in base al modo in cui sono legate tra loro i singoli monosaccaridi potremo avere una catena lineare, quindi dritta, compatta, oppure una catena ramificata. Abbiamo parlato prima di eteropolisaccaridi e omopolisaccaridi, facciamo qualche esempio. Un eteropolisaccaride è l'agar, invece parlando di omopolisaccaridi troviamo al loro interno il glicogeno, la cellulosa o l'amido. Il monosaccaride che li compone è sempre e solamente il glucosio. La molecola di glucosio viene in essi ripetuta più e più volte. La cellulosa ha una forma lineare come potete anche vedere dall'immagine e si trova solo e solamente nelle piante. Ha una funzione strutturale e vedremo che per via della natura dei suoi legami non può essere digerita praticamente da nessun animale, ma lo vedremo in seguito. L'amido è invece una sostanza di riserva, quindi non strutturale ma di riserva. Si tratta di una sostanza ramificata e presente esclusivamente nelle piante che la usano appunto come riserva. Ad esempio nelle patate troviamo delle cellule in cui viene proprio accumulato questo amido che è ben visibile al microscopio. E poi troviamo il glicogeno presente solo e solamente negli animali. Si tratta anche questa di una sostanza di riserva e molto ramificata. Gli animali, quindi anche l'uomo, immagazzinano questo glicogeno all'interno dei muscoli e all'interno del fegato e lo usano come scorta di glucosio pronto all'uso. Nel caso in cui dovesse servire possiamo attingere da questo glicogeno per avere una energia immediata. Quelli che abbiamo appena finito di enunciare erano i polisaccaridi e li troviamo segnati sull'etichetta alimentare tra i carboidrati ma non tra gli zuccheri. Però bisogna fare una eccezione e quell'eccezione è la cellulosa. La maggior parte degli animali non riesce a degradare, a digerire questa cellulosa. Tra i pochissimi animali a riuscire a digerirla sono i ruminanti che però non la digeriscono loro stessi ma all'interno dei loro stomaci, quindi del rumine contengono dei batteri, dei funghi, degli organismi specifici che sono in grado di digerire questa cellulosa che ha dei legami beta 1-4 che non sono in alcun modo digeribili dagli animali. Per cui ci pensano proprio dei batteri e tutti gli altri organismi presenti nei ruminanti. Ed è questo il motivo per cui le mucche, i cavalli, tutti i ruminanti riescono a ricavare energia dall'erba mentre invece noi non possiamo. Siccome noi non possiamo ricavare energia dalla cellulosa questa viene indicata nelle etichette alimentari come fibra. La cellulosa è una delle tantissime fibre alimentari nello specifico è una fibra alimentare insolubile pur trattandosi di un carboidrato però non ci dà energia per cui nelle etichette alimentari non la troviamo tra i carboidrati ma avrà uno spazio specifico. Perché? Perché da esse non ricaviamo energia ma sono comunque importanti all'interno della nostra dieta per cui è giusto ed è bene indicarle. Le fibri insolubili come la cellulosa riescono ad assorbire una grande quantità di acqua e all'interno del nostro organismo svolgono alcune importanti funzioni soprattutto per quanto riguarda l'apparato gastrointestinale. Si tratta di un qualcosa di veramente molto prezioso per il nostro organismo a cui dedicheremo ovviamente dei video specifici. Per oggi ci fermiamo qui. Come sempre spero di essere stato chiaro come sempre in descrizione trovate le varie fonti e trovate anche e soprattutto i miei link social. Vi ringrazio per aver raggiunto i 200 iscritti veramente un grazie di cuore a tutti tutti voi. continuate a sostenermi magari mettendo un like mettendo un commento e noi ci vediamo a un prossimo video.